Ciao, sono Cecilia Sardeo, fondatrice di Biz Academy e in questa nuova puntata di Impact Girl alla quale ti do il mio più caloroso benvenuto parleremo di crowdfunding, scopriremo non solo gli errori da evitare ma le pratiche migliori da seguire. Ammetto che è un tema che conosco molto poco quindi non so tu ma io non vedo l'ora di cominciare. Prima però ricordati di iscriverti al canale YouTube se stai guardando questo video da YouTube, non soltanto cliccando sul pulsante iscriviti ma anche attivando la campanellina che trovi accanto al pulsante altrimenti non serve a nulla. Se invece stai guardando il video dal sito biz-academy.it slash podcast ricordati di iscriverti gratuitamente via mail per ricevere tutti i nuovi podcast che arrivano anche via mail in maniera da non perderti nemmeno un episodio. Cominciamo con il nostro crowdfunding 101. Ciao e benvenute ad un nuovissimo episodio di Impact Girl, il podcast italiano dedicato alla crescita professionale tutta al femminile. Oggi cerchiamo in pochi minuti di dar vita ad una vera e propria mini guida pratica al crowdfunding e approfondiremo i do's e i don'ts per lanciare una campagna di successo. In altre parole le cose che assolutamente vanno fatte e le cose che assolutamente vanno evitate. Lo facciamo insieme a Donata Columbro, content strategist e digital campaign advisor. Ciao Donata! Ciao Cecilia! Grazie per essere qui con noi oggi! Grazie a te dell'invito davvero! Ascolta Donata tu sei specializzata nello studio di strategia di comunicazione volte a coinvolgere e far crescere una community attorno ad un'idea e a un prodotto che è un aspetto abbastanza tipico anche del crowdfunding anche se poi il crowdfunding è una cosa molto specifica di cui parliamo oggi e tu hai una grande esperienza anche nel terzo settore e sei specializzata quindi in campagne di attivismo digitale e appunto crowdfunding. Quindi aiutaci a capire innanzitutto quando il crowdfunding è un sistema che ha senso utilizzare e quali sono i pro e contro di questo approccio. Ok allora il crowdfunding intanto è una modalità entusiasmante secondo me per trovare finanziamento per il proprio progetto letteralmente può essere definito come una modalità di finanziamento fatta dalla folla crowdfunding appunto che possono utilizzare persone singole, associazioni, gruppi informali, aziende, start up quindi può essere utilizzato da chiunque. Per quali tipi di progetti può essere utilizzato? Sia progetti che riguardano una causa sociale perché spesso quando si parla di raccogliere fondi si può parlare, si pensa di solito alle no profit quindi una causa sociale, un progetto che riguarda situazioni particolari di disagio, una comunità in bisogno, un'emergenza per questi progetti il crowdfunding funziona. Funziona anche molto bene però se io voglio per esempio lanciare un prodotto o un servizio sul mercato e voglio fare un test quindi quando voglio lanciarlo per poche persone e capire se funziona e se c'è una risposta. Progetti su cui il crowdfunding non funziona sono quelli che partono male già dall'inizio cioè sono progetti che non funzionano a prescindere dal crowdfunding cioè che non hanno un obiettivo specifico, non hanno un target ma sono solo delle idee che non ho ancora concretizzato con un vero e proprio piano, un vero e proprio business plan, sia che si tratti di no profit o sociale, sia che si tratti di profit. Ci fai un esempio ipotetico di un prodotto ideale per la campagna di crowdfunding e un prodotto barra progetto che tanto sicuro non riuscirà ad avere il consenso ecco. Ok, un progetto o un prodotto che funziona molto bene è qualcosa che è utile non solo a te ma rende un servizio alle persone. Parlando per esempio di prodotto quindi parliamo del mondo profit, io voglio creare un dispositivo che permetta anche alle persone non vedenti di muoversi agilmente per la città. Invento questo dispositivo da polso che le aiuta a capire dove muoversi, dove ci sono i semafori, è un'invenzione, non è un qualcosa che posso far fruttare commercialmente, è utile ad altri e ci sono persone interessate e so che c'è qualcuno, un target che può essere interessato all'acquisto ma anche a sostenerlo, quindi entrambe le cose. Un prodotto che non funziona è qualcosa per esempio che esiste già o qualcosa che è molto generico come una piattaforma, molto grosso ecco, una piattaforma dove le persone possono iscriversi per leggere le notizie e dire se la notizia è falsa oppure no e io chiedo dei soldi per sostenermi. Qua ci sono gli elementi di utilità no? Potenzialmente sono utile alle persone che vedono se la notizia è falsa o no, però è un progetto molto grosso e ambizioso per cui un crowdfunding dovrebbe chiedere una somma, una minima, una parte ed è difficile per le persone capire quale può essere il loro contributo in più ma anche proprio come idea di progetto capire qual è la differenza rispetto a un magazine o un social network. Quindi quando l'idea vedi che già mentre lo racconto non c'è un'idea chiara no? Prima ti ho visto sorridere, secondo me stavi già quasi per mettermi soldini nel progetto, ti avevo quasi anche convinta. Qua dici va bene, dove mi sta portando con questa piattaforma? È così, cioè quando vedete nell'interlocutore, fate proprio un esperimento, un'espressione che cerca di indagare l'utilità o appunto quale può essere il futuro di questo progetto servizio, no, fermatevi e cercate di capire se ha senso quello che state pensando. Ok ok, mi stava venendo in mente l'esempio dei documentari perché ne ho visti diversi in passato richiedere fondi con il crowdfunding, anche relativi a storie non necessariamente particolari o non necessariamente uniche nel loro genere. È una categoria a parte o che caratteristiche deve avere ad esempio un documentario per riuscire ad avere il consenso generale? Un documentario, un prodotto culturale, ci sono addirittura piattaforme specializzate nella produzione di libri tramite crowdfunding e piattaforme specializzate appunto anche in lancio di dischi o documentari e anzi era nato quasi così, tra l'altro il crowdfunding, le piattaforme, la prima è nata in Italia, prima ancora che esistesse Kickstarter, solo che non si chiamava così, chi l'ha inventato non lo sapeva. La caratteristica di un prodotto culturale come può essere un documentario, un libro, un'inchiesta o un disco deve far percepire alle persone che l'unico modo per che questo documentario venga prodotto è con il loro aiuto, non ci sono altri mezzi. Quindi già stiamo raccogliendo caratteristiche appunto fondamentali del progetto di un crowdfunding, il senso di importanza che diamo alle persone per quanto riguarda il loro investimento, senza di te questa cosa non verrà fatta ed è importante perché ci mostra un aspetto della cultura, dell'industria, del territorio che altrimenti verrà nascosto. Poi tutto dipende ovviamente anche come lo racconto, anche la cosa più banale, il trasloco di un giovane italiano che va a vivere all'estero, ok può essere interessante, dipende da come lo sviluppo. E qui entra in gioco sicuramente l'aspetto dello storytelling di cui tra l'altro ragazze abbiamo una puntata a cui abbiamo dedicato un'intera puntata, quindi mi piace vedere poi come ogni concetto poi si collega a tutti gli altri, ogni episodio si collega agli altri. Quindi questo aspetto di importanza di coinvolgimento della community è sicuramente un elemento differenziante del crowdfunding rispetto alla raccolta fondi tradizionali. Ci sono altri elementi differenzianti? Allora sull'aspetto della community mi soffermo ancora un attimo perché avere una community già attiva prima di far partire un progetto di crowdfunding è una cosa fondamentale. Partire senza io non ho nessuno, non ho una pagina Facebook, non ho amici, non ho famiglia che mi può sostenere, andiamo molto sul difficile. Un altro aspetto fondamentale che riguarda sempre le persone perché crowd è la prima parola della parola composta crowdfunding, quindi vuol dire che è abbastanza importante, è pensare di avere delle persone che potrebbero essere i nostri principali sostenitori o come vengono chiamati in questo mondo i gold donor, perché se io ho un progetto molto ambizioso, anche non molto ma pensiamo a concreto 20.000 euro, voglio raccogliere 20.000 euro, pensare solo alla folla, quindi pensare a persone che mi donano una piccola somma, quindi 10 euro, io devo avere 2.000 persone che mi fanno questa donazione. Allora se ho un nome, se ho già veramente qualcosa, qualcuno dietro, sono un giornalista affermato, posso pensare di farcela, oppure se c'è stata un'emergenza, questo funziona molto bene, nel no profit lo sanno benissimo, no? Il senso dell'emergenza, qualcosa che è un negozio che ha subito un danno, per esempio, il terremoto, va benissimo. Se invece è un progetto che non è urgente e che sì, anche quello storytelling lo posso far diventare, è molto importante avere, trovare qualcuno che possa fungere diciamo da sponsor principale, gold donor, in modo tale da avere una grossa parte di donazione, penso sempre dando suggerimenti concreti, 5.000 euro o qualcuno che possa donare 2.000 euro, quindi diversi gold donor che mi aiutino a fare una parte sostanziale della somma. E questi gold donors io li trovo fuori, giusto? Li trovo fuori, possono essere aziende, possono essere persone interessate ad avere visibilità nel progetto, quindi questa è una grande capacità di pubbliche relazioni, di vendita e di coinvolgimento degli altri. Pensate, leggiamoci ancora invece allo storytelling, cosa vuol dire avere un gold donor in una raccolta fondi di questo tipo? Io posso raccontare alle persone che una loro donazione, un euro verrà raddoppiato dal mio gold donor e anche questo in termini di valore che io posso dare ogni singola donazione è tantissimo. Quindi in un certo senso e in questo caso il crowdfunding si intreccia con una raccolta fondi più tradizionale, quindi perché la mia ricerca di un gold donor implica l'attivazione di una serie di canali che speravo di evitare attraverso il crowdfunding, giusto? Sì, si spera di evitare tante cose quando si fa il crowdfunding, invece ci si complica la vita, ma quello che dico sempre è una, si vive un mese di adrenalina, perché di solito i crowdfunding sono corti che vale la pena provarci. Sì, può essere un richiamo alla raccolta fondi tradizionale, la differenza è che secondo me qua si può puntare molto di più sull'aspetto dell'investimento che queste persone o aziende possono fare. Io ho un investimento in qualcosa che ha un ritorno, che può essere visibilità, può essere di prodotto stesso, perché magari io do delle differenze, diciamo di offro delle dei benefit diversi a chi fa queste donazioni. Un altro aspetto importante, appunto facciamo l'elenco della spesa che non deve mancare, sono appunto queste ricompense vengono chiamate nel mondo del crowdfunding. Io faccio una donazione, faccio il mio investimento e di ritorno ho qualche cosa. Nel caso del documentario che citavi tu, quella base è la firma, il tuo nome nel titolo di coda. Quello più ampio può essere la presenza, vieni ti invito alla prima al festival che mi ha invitato, quindi vieni a sederti vicino a me come regista. Quindi in base a quello che io ho, il mio ritorno di investimento, io offro una donazione maggiore. Quindi importante anche pensare a questo, diversi livelli di coinvolgimento delle persone. Non posso aspettarmi che tutti mi diano appunto 5.000 euro, devo pensare a qualcosa anche per chi mi dà 5-10 euro. Chiaro, quindi ipotizziamo, torniamo all'aspetto pratico della cosa. Ho un progetto, lo carico nella mia piattaforma di crowdfunding, lo propongo e a questo punto comincio, o meglio l'ho fatto prima, ho selezionato un paio di gold honors, ho avuto la fortuna di trovarli e la strategia giusta per riuscirci. Li invito ad utilizzare la piattaforma di crowdfunding, giusto, per fare la loro donazione un pochino più sostanziosa, quindi questi 2.000 euro, 5.000 euro. A quel punto questo potrebbe invitare anche gli altri che vedono, quelli un po' più piccolini, le persone comuni, che vedono che già c'è una buona base di investimento, scusami di donazione, a donare di più. Funziona anche così. Io me la giocherei a livello temporale in modo diverso. Parto dalla mia cerchia di persone che ho attorno, quindi comincio a dire chi sono le persone che potrebbero essere interessate al mio progetto. Fare questo elenco è fondamentale, se non ho i nomi, cioè se il tuo compagno, tua madre non ti dà dei soldi, c'è un problema, non è uno svantaggio. Quindi comincio dalla cerchia piccolina e inizialmente io devo avere tante piccole donazioni da tante persone, perché dal punto di vista della sindrome del ristorante vuoto fa molto di più il numero di persone che le donazioni all'inizio. Ok. Poi mi gioco la carta dei donatori grossi, quindi passa una settimana, dieci giorni, faccio entrare il primo gold donor e ho la botta del contatore che sale e dice wow, vedi come è salito in una settimana, quindi comunico che in una settimana ho raccolto duemila euro. In realtà magari ne avevo raccolte cinquanta prima, però è tutto, torniamo sempre su come io racconto non solo il progetto, ecco la differenza quella che io devo anche raccontare come io lo finanzio in questo caso, quindi devo sfruttare questa, insomma anche il livello temporale, la storia nel coinvolgimento dei miei sostenitori. Quindi, la campagna è partita, il prima ce lo siamo lasciati alle spalle, cosa dobbiamo fare mentre la campagna è attiva? Mentre la campagna è attiva, una cosa fondamentale da fare è ringraziare ogni donatore che vi fa la donazione, se ha messo il suo nome pubblico nella piattaforma ringraziatelo anche sui social, perché questo funziona molto bene per far vedere agli altri chi sta donando, ah caspita lui l'ha fatto, l'ha fatto anche lui, lo voglio fare anch'io, quindi menzionateli su Facebook, menzionateli su Twitter, ovunque potete raccontate che queste persone che hanno deciso di credere in voi. Questo funziona sia perché spingerà il loro ego, comunque a dire wow sto contribuendo a qualcosa di grande, lo ricondivido, sia a far vedere ad altri insomma chi sono le persone che stanno contribuendo. Date aggiornamenti, la maggior parte delle piattaforme vi dà la possibilità di mandare messaggi a chi ha sostenuto, a chi sta sostenendo il vostro progetto, quindi mandare aggiornamenti, grazie a voi con questi primi soldi siamo riusciti a creare le prime parti del prototipo, iniziare a fare lo storyboard delle riprese, quindi raccontare, far vedere che le cose stanno funzionando, non è che state pensando di scappare con i loro soldini. Metteteci la faccia, ecco questa è un'altra cosa fondamentale, fate la produzione di contenuti, può anche non essere a livello extra professionale, se non avete un grafico direi che non è la cosa fondamentale, se però riuscite a fare dei video con il vostro volto in cui raccontate una sorta di diario giornaliero, funziona molto di più, perché le persone amano sentersi parte di qualcosa di cui vedono, insomma, chi c'è dietro. Parlavi anche di una durata, dicevi che le campagne sono di solito brevi, quanto brevi? Io consiglio di stare sui 30-40 giorni, perché appunto è un lavoro di continuo di invito alle persone a donare. Una caratteristica del crowdfunding è proprio quella della brevità, cioè o lo fai adesso, o tu mi dai soldi adesso, o questa cosa non potrà mai più succedere. Il senso di urgenza e di importanza, anche quando non c'è un'emergenza, vedete che si può giocare allo stesso modo, io ho 30 giorni per raccogliere fondi per fare questa cosa, perché poi le piattaforme ci aiutano in questo, perché c'è questa il contatore. Addirittura io posso scegliere quando faccio un progetto di crowdfunding di scegliere la modalità raccogli tutto oppure niente, cioè io ho un obiettivo 5.000 euro, ragazzi guarda che se non arriva 5.000 crolla tutto, perché non è solo una questione di storytelling, è perché soprattutto nei casi di prototipo, se voi non riuscite a raggiungere una certa cifra, è impossibile mettere la produzione, avviare la produzione. Questo funziona molto bene per dare il senso di importanza delle piccole donazioni che ogni persona può fare, e anche della loro importanza nel coinvolgere altri. Dite alle persone che hanno già donato di invitare a meno un'altra persona a donare, quindi di poter raddoppiare anche qui le donazioni in questo modo, date sempre veramente, mettete al centro le persone che vi stanno sostenendo. Quindi in questo senso mi rendo conto che sono 30 giorni molto intensi, anche perché significa essere presenti continuamente e ti chiedo una cosa, nel momento in cui lo scenario peggiore si verifica, quindi non raggiungo questi fatidici, non lo so, 20.000 euro, cosa faccio? Allora, in questo caso se avete scelto la modalità comunque di raccogliere quei fondi, perché il vostro progetto comunque con una parte di questi poteva andare avanti, siate molto onesti con chi ve li ha dati, dicendo che cosa potete fare e che cercherete fondi per esempio tramite bandi europei, anzi io consiglio sempre su progetti così ambiziosi di spiegarlo prima, cioè che voi per realizzare questo progetto avete bisogno di 20.000 euro, che però anche se ne raccogliete 5.000 lo provate a portare avanti lo stesso e quindi non è che questi 5.000 verranno dispersi, perché state già mettendo in atto strategie di partecipazione a bandi, di coinvolgimento di altri finanziatori, donor, ovviamente tutto sta alla vostra buona faccia e credibilità, cioè una volta che voi decidete di intraprendere questa strada, voi è vero che potete anche, vi servivano 20.000 euro, ne avete raccolti 5.000 cosa fate? Siate appunto trasparenti e onesti e dite che cosa state facendo con quei 5.000 euro, se non riuscite a fare tutto il progetto trovate o il modo, cercate di fare una restituzione non in denaro ma alla comunità, cioè con quei 5.000 euro non riuscirò a fare il progetto completo, riuscirò a fare una parte. Non avrebbe senso estendere, no? E' un po' rischioso perché si può fare su alcuni progetti, potete dire abbiamo valutato male, so che magari arrivano altri donatori, avevo coinvolto quell'azienda che mi ha detto aveva bisogno solo di un altro mese per, però un caso che valuterei diciamo se non ha funzionato qualcosa nei primi 30 giorni vuol dire che non c'è stata una pianificazione prima, un altro mese in più non vi darà i soldi che vi mancano, a meno di questi appunto gold donor che dicono guarda te lo posso fare il mese dopo la fiera o mi arriva quest'altro finanziamento, in questo caso posso provare a prolungare, ma attenzione perché non tutte le piattaforme o non tutte le tipologie di progetti che voi scegliete ve lo permettono di fare. Potete magari attivare un nuovo crowdfunding, capire che cosa è andato storto perché c'è chi l'ha fatto, lancio il primo fallimento, capisco cosa è andato storto, lo rilancio magari spacchettandolo in altri progetti piccolini, quindi da 5.000 euro, forse 20.000 era troppo, le persone non hanno capito perché vi servivano tutti quei soldi, hanno donato poco e vi hanno fatto raggiungere solo magari la metà. Le piattaforme tra l'altro vi danno anche molti dati su quello che le persone fanno nella pagina del vostro progetto, se io riesco a far arrivare sulla mia piattaforma 2.000 persone e poi donano in 10, ho fatto una comunicazione pazzesca ma poi le persone non sono state interessate, non hanno capito a fondo il vostro progetto, quindi c'è da lavorare non sulla comunicazione a monte ma proprio sul progetto in sé. Quindi possiamo dire che quello che c'è da fare dopo a prescindere dal risultato che abbiamo ottenuto è quello di mantenerci trasparenti in qualunque sia la strada che scegliamo di intraprendere, se proseguire, se interrompere, se scomporre e ripartire da zero e l'altro aspetto molto importante di cui parlavi è l'analisi, quindi ovviamente se le cose sono andate bene forse ce n'è poca da fare, ma se le cose non sono andate come previsto, non scoraggiarsi, cosa non facile, tornare indietro, rimbocarsi le maniche da camice da scienziato e ripartire, giusto? Sì, questo e ricordatevi che qualunque sia stato l'esito della vostra campagna di crowdfunding avete avuto delle persone che hanno creduto in voi, questa è una cosa incredibile se ci pensate, cioè delle persone che hanno deciso di, anche sconosciuti quando succede è una cosa meravigliosa, che hanno deciso di sostenervi, non dimenticatevi di loro, ricordatevi che potete coinvolgerli anche in altri progetti o chiedere a loro consigli, soprattutto nel caso sia andato male, come mai è andato male, oppure avete un elenco di contatti che voi pensavate eravate sicuri che vi avrebbero sostenuto, non l'hanno fatto, magari fatelo una settimana dalla scadenza, non fatelo proprio dopo, com'è che queste persone non hanno ancora donato, chiedete c'è qualcosa che non va, cosa che non ti convince nel mio progetto, possono darvi un grande aiuto in questo e magari migliorare anche negli ultimi giorni, non è detto, insomma gli ultimi giorni sono i primi e gli ultimi sono quelli più importanti nel progetto di un crowdfunding, in mezzo scende un po' anche l'entusiasmo, l'adrenalina e le persone, esattamente come succede per gli acquisti, lo fanno all'ultimo, quando dicono oddio mancano due ore, lo devo fare. Quindi non scoraggiatevi e chiedete veramente a queste persone i loro feedback. Io credo che ci voglia un bel po' di coraggio a chiedere aiuto, nel senso letterale del termine in ogni situazione della vita, quindi ci vuole un bel po' di coraggio anche per riuscire ad intraprendere una campagna di crowdfunding. Probabilmente il coraggio nasce poi dal quanto crediamo nel progetto che proponiamo, ma credo che una volta acquisito quel coraggio poi anche se le cose non dovessero andare come vogliamo siamo ormai equipaggiati per affrontare ogni sfida e ogni difficoltà. Sì perché ci metto proprio la faccia, sono lì fuori nel mondo. Ti chiedo una cosa Donata, all'inizio della puntata hai nominato il fatto che è fondamentale avere una community di base da cui partire fuori dalla piattaforma di crowdfunding. Mi metto nei panni di non lo so un web developer o semplicemente un imprenditore che non ama particolarmente l'aspetto della visibilità e della comunicazione. Lui o lei che siano hanno creato questo progetto ideale, hanno bisogno di fondi, adesso non hanno avuto tempo di crearsi la pagina Facebook, svilupparsi la strategia di comunicazione su YouTube. Quindi hanno soltanto tutto al più gli amici intorno ai colleghi. Sono assolutamente svantaggiati o c'è speranza anche per per chi parte così? Allora tu hai detto delle cose chiave che hanno gli amici intorno ai colleghi. Quella è già un pezzo di comunità quindi nessuno è isolato nel proprio mondo. Guarda in realtà proprio quelli che ne crediamo, lo sviluppatore più nerd che esista probabilmente fa parte di community del suo mondo anche a livello anonimo, no? Perché poi insomma queste persone sono dentro quei meccanismi del web prima ancora che esistessero i social in cui è inizialmente anche solo chiedere feedback sul progetto. Quindi partire però veramente dal minimo gruppo di persone che stiano intorno per dire io vorrei fare questa cosa, cosa vi sembra? Guardare la faccia delle persone e andare avanti e dire ok tu conosci qualcuno che secondo te può essere interessato? Mettersi foglio e penna in mano a segnare tutti i nomi delle persone. Sembra un'attività di stalking anche inizialmente perché dicevo veramente segnare nome e cognome? Sì! E a fianco a questo nome e cognome segnare come possono dare un contributo al mio progetto che può essere un contributo in sostegno. Io ti lascio anche solo ti faccio un video in cui ti dico sì io credo in lui perché è un mio collega. Quindi magari io non sono una persona social ho paura a metterci la faccia, ma il mio collega è un super appassionato di questi mezzi e mi può dare una mano in questo senso. Qualcuno che lo faccia, che ti sta a fianco e che ci provi ci va perché è veramente un essere in vetrina in qualche modo e dover convincere un gruppo di persone a sostenermi. Difficilmente lo posso fare se non mi metto in qualche modo sul mercato, anche se io non voglio passare dal crowdfunding, ma voglio fare un pitch davanti a degli investitori, comunque qualcuno che mi ascolta e che devo convincere c'è. Può essere un buon esercizio partire ecco dal crowdfunding. Una micro sfida per poi affrontare quelle più grandi. Quali sono le piattaforme di crowdfunding che suggerisci di utilizzare in Italia? Allora dipende dalla tipologia di prodotto che io voglio mettere a suo prodotto o progetto. Innanzitutto bisogna chiedersi se voglio solo partire da un progetto in italiano oppure la mia community è prevalentemente inglese anche se sono in Italia. Se si tratta di un prodotto che voglio sviluppare con un prototipo, per esempio in questo caso io consiglio Kickstarter che è nata proprio per quella tipologia, quindi un prodotto che vuole essere messo sul mercato magari anche a livello internazionale e che mi dà la possibilità anche di avere la piattaforma in diverse lingue. In Italia consiglio tre, Produzioni dal Basso, che è la prima piattaforma appunto di crowdfunding nata veramente dal suo fondatore illuminato che dà statistiche, dà tantissime opzioni, possibilità e un'assistenza anche molto forte per chi vuole, per chi magari ne sa poco di crowdfunding e vuole essere aiutato. Eppela, che è un'altra delle piattaforme più famose e Rete del Dono. Consiglio anche un'altra cosa di fare attenzione a queste tre piattaforme italiane perché a volte mettono anche la possibilità di partecipare a dei bandi di imprese che possono diventare i vostri gold donor, gold sponsor. Quindi se io parto da zero, dicono io non conosco nessuna azienda che può aiutarmi, iscriviti alla newsletter di queste piattaforme perché danno proprio queste possibilità dalle banche territoriali a aziende che vogliono sostenere produzione di documentari oppure progetti sportivi o appunto legati al territorio, vi possono aiutare a trovare appunto magari il trenta per cento, il venti per cento del vostro finanziamento che non è assolutamente poco e abbiamo visto anche a livello di comunicazione ve lo potete giocare benissimo. Bellissima questa, è veramente una mini guida mini perché ovviamente in mezz'ora possiamo fare quello che possiamo fare, però abbiamo coperto veramente tutte le cose da fare assolutamente, le cose da non fare assolutamente e quali piattaforme utilizzare. Quindi veramente Donata ti ringrazio un sacco perché sei stata diretta, dritta al punto, precisa, concreta, pragmatica, mi sei piaciuta un sacco. Quale donna dovrai intervistare dopo di te? Una donna che ho conosciuto dal vivo da pochissimo, si chiama Francesca Folda ed erettrice globale della comunicazione di Aman Institute che è un'organizzazione che forma imprenditori sociali nelle comunità più disagiate o in altri modi economie emergenti nel mondo che poi sono Kenya, India e Brasile, è una donna pazzesca. Quindi impatto allo stato, impact girl allo stato puro. Grazie mille Donata ancora per essere stata con noi. Grazie a te e a voi. Ragazze della tribù vi ricordo come sempre che potete guardare o ascoltare l'episodio in qualunque momento dal sito beats-academy.it.it e sotto il video o l'audio che sia troverete il minutaggio preciso di tutti i punti salienti di questa puntata così che possiate andare a ritrovarli e riguardarli ogni volta che vi serve. Noi come sempre ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a beats-academy? Puoi farlo visitando il sito beats-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.